... dal nostro amico direttore Picciolta, buonasera. Buonasera. Ecco direttore, si giocherà a Castellammare? Sì, si giocherà a Castellammare, noi non siamo vinciti obbligatoriamente perché siamo arrivati persi e quindi Castellammare ha due risultati su tre per questa finale. Ecco, i tifosi come si stanno analizzando, direttore? La società ha messo a disposizione due formal, ci saranno grandi, diciamo, molti fosi a seguito perché è una partita che va nella stagione, vincendo possiamo andare a fare la finalità per l'Eccellenza contro il Torre Brossa in Campo Neuto. Direttore, ma lei è soddisfatto di risultati raggiunti finora o ha qualche rammarico della stagione? Qualche rammarico ce l'ho perché dovevamo arrivare secondi, siamo stati sfortunati, dovevamo vincere le partite contro il Moseale, con l'Incasa, contro il Villabate, abbiamo sbagliato molto e questo ci ha penalizzato. Comunque andiamo a Castellammare con l'Immorare Asco, l'Immorare Asco e diciamo che i ragazzi stanno preparando la partita per vincere, sono molto fiducioso perché stanno lavorando bene e quindi domenica, sabato, anche alle ore 17.30 a Madalda ci saranno più le grandi stagioni e sicuramente potremo a Castellammare se sono stati. Ecco direttore, io ci dovevo essere, ma purtroppo l'Ostratante gioca lo spareggio contro il Latterico con Leone a Balestrade, quindi sono costretto ad andare a Balestrade, direttore, mi pregheva veramente tanto venire e vedere questa bella partita. Vengole, se lo facciamo, ci vedrai vedere la tiramissima. Vediamo, direttore, cosa succederà andando. Il Mocallù come vuoi, per l'Ostratante, per tutto, e complimenti per la trasmissione.